Buongiorno, mi chiamo Bruno e sono un amante delle due ruote. Non ho mai avuto una macchina, viaggio sempre scooter. Però d'inverno piove e bisogna attrezzarsi. Per esempio domenica, dopo una festa in giardino, no? E proprio mentre stavo per baciare Paola sul dondolo, ha cominciato a piovere. Ed è lì che mi è venuta l'idea. Ovviamente dovete avere un po' di fortuna che il vostro tendalino si adatti allo scooter. Bisogna smontarlo. Si smonta via, si spacca. E quindi... Ecco ma... Questo è uno scooter. Un ci resta che trovarlo. Buon viaggio, grazie. Io sono Francesco Gabrielli, questi sono i miei profili. E questo è il casino che ho fatto in salotto per fare questo provino. Grazie e buon lavoro. Grazie a tutti.